Sì, il pezzo va a impire due pagine. Ma queste sono tutte le fotografie che abbiamo. Oh, davvero? Allora bisogna ramettere qualcos'altro, non so, magari un disegno, oppure bisogna cercare... Ok, vedrò cosa posso fare. Brava, grazie. Allora, eri con il freak? Non è un freak. Lui se n'è andato? Beh, ti ha aspettato parecchio tempo. Non avevamo un vero appuntamento. Gli ho detto che hai avuto un imprevisto. Ha detto qualcosa? Che i suoi genitori non sono in città e che stasera vorrebbe dare una festa in piscina. Forte. Era molto infastidito per la buca che gli hai dato. Si può sapere che cosa ci facevi con quella... La relazione di chimica. Oh, davvero? E quindi mi hai lasciato da sola in questa specie di manicomio? È passato il tempo. La relazione era così eccitante? Non riesco a capire qual è il problema. È una giornata da schifo. Che succede? Cattive notizie. Notre Dame. Oh, cavolo. Lista d'attesa. Davvero? Ma non lo capisci. La lista d'attesa è praticamente un rifiuto. Ma no, avrai tempo per aggiornare la richiesta. Questo non cambierà le cose. Digli che è la tua prima scelta. Intanto puoi accumulare altri crediti. Puoi farcela. Pensare positivo, giusto? Giusto. Ciao, Raphael. Non so se faccio in tempo. Ho una partita di tennis. Ok, cercherò di venire. D'accordo. A dopo. È tutto sotto controllo. Sì, sei forte. Non so se faccio in tempo. Oggi parliamo delle forze di attrazione di Van der Waals. Queste forze sono forze di interazione relativamente deboli che uniscono le molecole neutre di quasi tutti i composti organici... Oh, che accidenti. Sta più attento. Che dici? Passerò dei guai. Mi punirai per quel che ho fatto? Sì, forse dovrei. Lo sai che sono terrorizzato dalle tue punizioni? Sì, lo so bene. Ma conosci le regole. Ma quegli affari appuntiti mi fanno veramente male. Keith, sei un bambino cattivo e ne paghi le conseguenze. Domande? Allora ci vediamo alle cinque. Per cosa? Per il bowling. Bowling? Scherzi. Comunque non posso. Domani? Ehi, non ti arrendi, eh? Non è un appuntamento. Forse un'altra volta. Venerdì. Parlerò con la tua segretaria. Ok, fai pure. Hai fatto? Ho aggiunto qualcosa al secondo e al terzo punto e ho eliminato il quarto. Non credo che servisse. E altre piccole cose. Bene. Te la mando. Agli ordini, signora. Natalie, telefono. Ti devo lasciare. Così andrà bene, vedrai. Non cambierà niente. Ti dico di sì. Credimi. Ricevuto. Ok, ci sentiamo. Ciao. Pronto? Non sarebbe un appuntamento. Chi parla? Una partita bowling. Tutto qui. Di che hai paura? Keith. Ciao. Ascolta, ti vengo a prendere domani alle cinque davanti a scuola. Tu fai mai compiti? Compiti? Cosa sono i compiti? Tocca a te sistemare gli appunti di chimica. Rischio la mia media. Stai cambiando discorso. Ti ho detto che ho da fare. Senti, sarai a casa per le nove, così avrai tempo per un altro appuntamento. Ci vediamo a scuola? Non lo so, forse. Con gli appunti di... Chi era al telefono? Ah, un amico. Ti trovi bene con lui? Sì. Come si chiama? Keith. Keith? Credevo che... Rafael. Si chiama Rafael. Il ragazzo sudamericano? Sì. Perché non lo inviti a cena da noi una sera? D'accordo. Certo. Sei gentile. Chi è Keith? Nessuno, solo un compagno di laboratorio. A. A. Non è un appuntamento. B. Sei il mio compagno di laboratorio. C. È solo curiosità. Sei furba. D. Il bowling è un gioco molto popolare in America ed è importante conoscerlo. E. Non è e non sarà mai un appuntamento. Insomma, ti sta perseguitando per caso. Che succede? Che devo fare con lui? Ah, è semplice. Sbarazzatene. Allora, voglio la relazione tra due settimane. E vorrei sottolineare che è il 4 di maggio, quindi vi consiglio di chiudervi in casa e di mettervi al lavoro. Vi ricordo che è un lavoro molto importante che inciderà sulla vostra media finale, quindi concentratevi e datevi da fare. Siamo d'accordo? La gita di due settimane in Europa ha un evidente scopo didattico. Gli studenti hanno la grande opportunità di conoscere diverse tradizioni e quindi di accrescere il loro bagaglio culturale. Io personalmente sono interessata a conoscere meglio il patrimonio enologico francese. E che ne dite della cultura del fumo in Olanda? Visto, abbiamo già più voglia di imparare, vuol dire che funziona. Sono dei vostri. Anch'io. D'accordo allora. Possiamo vederci verso le 9 stasera? Devo aiutare una ragazza con i compiti di matematica. Il film è alle 8. Oh, cavolo. Beh, faremo qualcos'altro. Grazie. Non lo so. Veramente vuoi basare la tua relazione con Raphael sulla bugia e sull'inganno? Digli semplicemente la verità. Che passi due ore con un compagno di scuola. Beh, quello che dico a Raphael non è a far tuo. Su questo non c'è dubbio. Non andiamo al bowling. Lo faremo dopo. Beh, ce le danno direttamente lì le palle da bowling. Non come queste però. Cosmo. Pezzi. E la palla volta. Ce ne servono soltanto due. Se giocassimo solo a bowling. Andy, è un vero artista. D'accordo, ma si fa tardi? Ogni cosa ha suo tempo. Hai usato un pezzo di ricambio. Non è solo un pezzo di ricambio. Abbiamo creato la vita dalla materia inanimata. Tu e Andy? Io e mio padre. Vai d'accordo con lui? Non lasciare. Allora? Beh, è nato prima dell'iniezione elettronica. Ho bisogno di lui. Questo furgone è il tuo mondo, quindi? Già, è il mio mondo. Interessante. Sei un ragazzo di talento, Kit. Hai un potenziale scolastico notevole. Perché perdi il tuo tempo dietro a questo dannato furgone? Beh, non l'avrei detto così, però... È quello che penso. Non farci caso, tesoro. È solo un po' gelosa. Allora... È lei la tua ragazza. Senti, il tempo è scaduto. Devo andare. Senti, niente bowling. Non ti fermare. Gira all'angolo. È puntuale. Mi piace questo in un uomo. Arriva puntuale e lasciale con il desiderio. Sì, tu e guida, Kit.